Ciao, da Elena Ruggetto, compravendite immobiliari, che poi sono io. Eccoci al secondo video della vendita perfetta. Nello scorso video ti ho parlato di quanto sia importante la prima visita all'acquisizione. Ricordi? Ora, valutata con coscienza la tua casa e presi gli accordi su tutti i dettagli della vendita, non ci resta che mettere nero su bianco. Certo, mai dimenticarsi dell'incarico di vendita, che può essere rilasciato libero o in esclusiva. Ma cosa cambia? Semplice, fai lavorare male tante agenzie o ne fai lavorare bene una sola? Devi sapere che una casa che si trova in internet un po' dovunque, sembra proprio che la si voglia vendere a tutti i costi, sminuendola nei contenuti e nel prezzo. L'impressione è che si autorizzi potenziali clienti a fare offerte scandalose. Un'agenzia con un incarico in esclusiva lavora la tua casa come un bene prezioso, investe molto in pubblicità e la rappresenta al meglio facendo solo visite mirate e non per portare in visita il primo che capita solo per arrivare prima di un'altra agenzia. Ti sveglio un segreto, un cliente prima di comprare valuta tutto ciò che c'è sul mercato e contatta tutte le agenzie. Per questo stai tranquillo, non perderai il tuo bel cliente. Al contrario la tua casa, sedata in esclusiva, curata con maggior professionalità nell'intervento pubblicitario, avrà un impatto di primo ordine mantenendo alte le aspettative e il prezzo. Dunque ricapitoliamo. Con l'incarico di vendita in esclusiva non avrai curiosi ma solo visite mirate. Venderai prima la tua casa e da un miglior prezzo. Per oggi è tutto. Seguimi e non perdere il prossimo video pubblicità e visite. E se con i video il mio metodo di lavoro non dimenticare di mettere un like, commentare o condividere. Non posso che dirti che grazie. Ciao! Ciao!